Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Tele Truria dedica all'attività del Consiglio regionale e come di consueto in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Mazzeo confermato alla guida del Consiglio regionale, operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di presidenza. Imrossi 4x4 premiato con la targa del Consiglio regionale. Con 36 voti su 40, Antonio Mazzeo è stato confermato presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. Oltre ai voti di preferenza raccolti da Mazzeo, ci sono stati due voti per il consigliere Francesco Gazzetti, un voto nullo e una scheda bianca. Sento un'emozione più grande e una responsabilità maggiore rispetto a quando sono stato eletto presidente due anni e mezzo fa, ha dichiarato Mazzeo. Sento un forte carico di responsabilità. Quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza che ringrazio. Noi davanti a noi abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati. Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili portati avanti da tutti con grande serietà, lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa assemblea legislativa essere sempre più la casa delle toscane e dei toscani, un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscani e la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve. Io sarò garante di questo. La proposta di riconfermare Mazzeo alla presidenza del Consiglio regionale è stata avanzata in aula da Vincenzo Ceccarelli. Tutti i gruppi politici hanno annunciato voto favorevole. Noi abbiamo riproposto il presidente Mazzeo per ricoprire la carica in continuità anche per la seconda parte della legislatura così per tutto il pacchetto dell'ufficio di presidenza. è un riconoscimento alla competenza, all'equilibrio che è stato utilizzato per condurre i lavori dell'aula e noi crediamo che questo continuerà e probabilmente si rafforzerà anche in futuro. Abbiamo anche raccomandato di recuperare il regolamento che deve avere dei miglioramenti per poter rendere i lavori dell'aula più efficienti e più efficaci e siamo certi che questo lavoro verrà fatto coinvolgendo tutto il Consiglio. La votazione sul presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno giunti alla metà della legislatura. Il voto ha riconfermato inoltre come vicepresidente Stefano Scaramelli che ha ottenuto 21 voti e Marco Casucci con 13 voti. È consolida una maggioranza solida a livello regionale, ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso, ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centro-sinistra nel governo della nostra regione, si consolida e si rafforza il governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'aula, nella presidenza dell'aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato e nel contempo, ovviamente, conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva a livello regionale, nel Consiglio regionale, a sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto che compatta quindi questa nostra coalizione. Con spirito di responsabilità e di servizio, far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio e al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza. È una grande responsabilità, ma anche una grande gioia. Io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017, sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i toscani, cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante. Nel segno della continuità con l'ufficio di presidenza uscente, anche l'elezione dei due consiglieri segretari, dove l'aula ha votato la riconferma della consigliera Federica Fratoni e del consigliere Diego Petrucci. Fratoni ha ottenuto 23 voti, Petrucci 14. Credo che continueremo a lavorare anche con l'innesto dei due nuovi questori in uno spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto le sedute dell'ufficio di presidenza, orientando la nostra azione alla valorizzazione del ruolo che l'istituzione e il consiglio regionale deve avere per tutti i cittadini toscani, cercando di rappresentarle al meglio e soprattutto di favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente. Quindi grande attenzione ai valori dei diritti, all'economia circolare, alla sostenibilità, ai temi del momento. Porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana 2050, quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica, come dicevo, di collaborazione che va oltre colori politici. Ho voluto sottolineare il fatto che in questo ufficio di presidenza io sono l'unica rappresentante femminile e questo deve ovviamente impegnare ancora di più i lavori dell'ufficio e del consiglio tutto a favore appunto di una parità di genere effettiva in stretta collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, perché credo che questo sia uno dei principi fondamentali sui quali ovviamente vogliamo lavorare. Sicuramente con enorme soddisfazione, con un onore grandissimo rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo, lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica, l'agone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana, sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. La composizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è completata con l'elezione dei due consiglieri con funzione di questori per il cui ruolo l'aula ha votato i consiglieri Francesco Gazzetti e Marco Stella. Gazzetti ha ottenuto 19 voti, Stella 13. Usciamo da due anni difficili che sono quelli della pandemia, ci portiamo dietro alcune cose positive e alcune cose negative, io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha presieduto la Commissione Europa porteremo per esempio più Europa all'interno dell'ufficio di presidenza il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio, abbiamo bisogno di lavorare sempre di più, io sono del 1971, rappresento quella generazione Eurasmus che girava l'Europa un po' per divertimento, molto per divertimento, che nei propri viaggi, studi, nel percorso universitario trovava all'estero magari la moglie, la fidanzata, trovava magari un lavoro. Ecco io credo invece che l'Europa di oggi con i ragazzi 18, 19, 20 anni c'è un tema del tutto culturale quando si comincia a girare l'Europa che ha a che vedere con la rappresentanza sicuramente l'ampliamento dentro l'ufficio di presidenza, con il fatto che siamo usciti dal Covid dove il contatto fisico è diventato un elemento quasi di distanza, noi vogliamo riavvicinarsi ai cittadini, l'ampliamento dell'ufficio di presidenza serve anche a questo, io porterò le istanze di tutti dentro l'ufficio di presidenza, porterò la mia esperienza professionale, io continuo ancora a lavorare pur facendo il consiglio regionale, è il rapporto con le imprese, penso all'internazionalizzazione, penso per esempio alle risorse che dobbiamo mettere per i poliferistici e per la possibilità per le nostre imprese di avere stand. Credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza e adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa, quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Per quanto mi riguarda, io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa, il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione, ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro e poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani, noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale, degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze, credo che il legame vada ancora di più rinsaldato e poi c'è un impegno assolutamente significativo che credo debba essere quello di poter valorizzare, impegnarci ancora di più insieme al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti, ai segretari e adesso anche insieme al collega Stella come nuovi soggetti, come nuovi questori, anche del protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri. Sull'esito delle votazioni, questo il commento del presidente della regione toscana, Eugenio Il clima che si è riscontrato in questa importantissima seduta, la seduta che a metà legislatura conferma i ruoli nel Consiglio regionale, in fondo è anche una valutazione d'apprezzamento per il lavoro della Giunta e conferma come l'equilibrio che ci siamo venuti a creare fra Giunta e Consiglio ha portato a far sì che sono state confermate quelle figure di riferimento non solo il presidente Mazzeo ma anche il vicepresidente Scaramelli che è espressione di una collegialità di lavoro nella maggioranza che vede unita da un lato la forza, diciamo così, del Partito Democratico, dall'altra di Italia Viva, dall'altra ancora della sinistra e contemporaneamente un'armonia di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli fra maggioranza dell'opposizione. Ha chiuso l'ultima edizione del Cartarelli in Marocco con il primo posto nella categoria Cross Country 4x4. È solo l'ultimo degli eccellenti risultati sportivi ottenuti negli anni dal pilota Stefano Rossi e dal suo staff premiati con la targa del Consiglio regionale. Riconoscimento che il Team Rossi 4x4 ha ricevuto nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Ha portato in alto il nome della Toscana nel mondo, il Team Rossi 4x4 è una di quelle eccellenze della nostra terra di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi. Passione, impegno, dedizione, 30 anni di lavoro per ottenere grandi risultati come gli ultimi appena arrivati. Il segno che davvero sul nostro territorio ci sono qualità e competenze che possono rappresentare bene quella che è la Toscana nel mondo. Allora a Stefano Rossi e a tutto il suo team i complimenti più vivi, sinceri da parte del Consiglio regionale, del nome mio personale ma anche da parte del vicepresidente Marco Casucci che ha voluto fortemente questo premio. Stefano Rossi ricorda anche le recenti modifiche apportate ai mezzi con l'alimentazione ibrida combinata con l'idrogeno. Mi sento dentro una forte passione che cavalco da quasi 30 anni e sinceramente riuscire ad arrivare a un riconoscimento di questo livello dalla propria regione mi emoziona quanto mi inorgoglisce. Per me pensare che la mia passione nata tanti anni fa potesse raggiungere un riconoscimento anche regionale non ci avrei mai pensato e devo dire che è veramente importante e fa ben sorridere, fa ben sperare come le modifiche che abbiamo apportato nel nostro veicolo siamo riusciti a far andare il nostro fuoristrada anche con l'idrogeno e sai che questo nuovo riconoscimento possa portare a nuove occasioni, a nuove gare e che ci porti tanta fortuna. Come è stato detto dall'amministrazione comunale di Arezzo è un orgoglio aretino. In questa sede lasciatemi dire che è un orgoglio toscano anche perché riesce veramente a coniugare la grandezza delle nostre eccellenze con l'innovazione, con l'alimentazione ibrida che è combinata anche con l'idrogeno, apre anche a nuove prospettive. Vuol dire che Arezzo e la Toscana sono innovativi e sanno stare sul pezzo e questo è un bel segnale che diamo a tutti i toscani. Questa era la nostra ultima intervista, grazie dunque per la cortesia e attenzione e vi ricordo che Crona che commenti torna la prossima settimana.